Chi le mangia con me? Questi arepas sono delle focaccine venezuelane preparate con acqua e farina. Sì, come si fanno? Mmm, ci sono un paio di passaggi, vi dovete seguire, altrimenti la ricetta non me la do mica così. E questa è la mia ricetta delle arepas. Farina integrale, farina bianca, sale e acqua. Mettiamo le farine ed il sale nella ciotola. Ora mescoliamo e versiamo l'acqua, amalgamiamo e spostiamo il composto sul piano da lavoro. Lo lavoriamo un paio di minuti, impastiamo, formiamo una palla e la lasciamo riposare una mezz'oretta coperta e andiamo a preparare il ripieno magari. Trascorsi il tempo stendiamo e formiamo tanti dischetti oppure prendiamo delle palline e le schiacciamo. A voi la scelta. È il momento di cuocere le arepas. La ricetta originale dice di friggere in olio di semi. Ok, non fidandomi tanto di quella cosa, allora io prima le ho cote sulla piastra da amboilate e poi le ho fritte. Devo dire che sono venute bene. Voi potete anche friggere soltanto, ci mancherebbe. Vedrete poi che durante la frittura si gonfiano e lasciano così il vuoto in mezzo. straordinarie. Vorrei tanto mangiare le originali. Devo andare a Venezuela. Beh, intanto farciamo con il ripieno che abbiamo scelto. Le mie con carne, trite e fagioli. Mamma mia che bontà. Ottime con verdure, formaggi, salumi o anche così vanno servite tiepide e sono il massimo. L'impasto base delle arepas, piatto tipico venezuelano, ricordo che è realizzato con farina bianca di mais e se ce l'avete usatela. acqua e sale, senza la necessità di aggiungere lievito. Questa versione è quella che possiamo fare noi a casa nostra, con le nostre farine.